Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo il VFC Avalon Gladius DX Black. Let's go! Parto con dire che questo fucile ha due componenti elettriche importantissime. Una è un fast trigger, ovvero un grilletto apposta che riduce il delay tra quando voi premete il grilletto e quando il vostro pallino esce dalla canna. In poche parole rende il fucile più reattivo alle vostre necessità. E una centralina MOSFET, ovvero un chip che aumenta la velocità di reazione del fucile, ovvero ottimizza in generale l'aspetto elettronico del fucile. Altro pregio di questo fucile sono sicuramente sia il selettore che lo sgancio caricatore per ambidestri, quindi presenti sia sul lato destro del fucile che su quello sinistro. Piccola chicca che va ad aumentare la quantità di caratteristiche positive che questo fucile possiede. Adesso muoviamoci un attimo sui componenti interni e sui materiali di cui è composto. Ok, come detto il produttore di questo fucile è la Vega Force Company. Il materiale del fucile è full metal. Il peso è di 2,390 kg, mentre la lunghezza è di 670 mm o 688, a seconda che il calcio sia completamente esteso o no. La canna interna è di 285 mm e a proposito della canna interna, è già montata sul fucile e arriva in confezione. Una canna di precisione. Il caricatore è quello standard da PDV ma monta anche i caricatori normali da R o da M4. È ovviamente monofilare, tiene 120 BBs, quindi pallini. Il guscio è completamente in metallo con loghi serigrafati, anche dell'Avalon, che devo dire è molto molto figo. Sono presenti due tacche di mira, un anteriore ovviamente e posteriore, entrambi abbattibili. Batterie, carica batterie non sono inclusi in scatola. Spara ovviamente a filo joule. Il vano batteria è posto all'interno del calcio CQB. Ras frontale flottante in alluminio, modello ovviamente key mode come potete vedere. Passando adesso alle caratteristiche tecniche, abbiamo un gearbox completamente in metallo rinforzato, un gomino PAP Maple Leaf da 60 gradi, motore long axle high speed, il che vuol dire che questo affare spara come un b***o, boccoli in acciaio 8 mm cuscinettate, pistone in ABS rinforzato, ingranaggi in acciaio autospessoranti, testa pistone in alluminio, cilindro in acciaio, testa cilindro in acciaio e molla da un giaulo ovviamente. Lo spingipallino è in ABS rinforzato, mentre la canna interna, come vi ho detto, è una Maple Leaf di precisione in alluminio, il che vuol dire che oltre a sparare a una velocità impressionante, la rosata dei pallini sarà estremamente concentrata ed estremamente precisa anche sulle lunghe distanze. Ultima piccola cosa che potrebbe interessarvi è che c'è il ball catch funzionante, in modo tale che voi possiate andare a regolarvi lo PAP senza dover tenere la leva d'armamento ferma, e ovviamente tasto di rilascio sempre funzionante. Tac! Funziona veramente molto bene, il movimento è chiaro, semplice e si blocca perfettamente. Bellissimo! Va bene, dopo questa carrellata di informazioni sul fucile, tra materiali, caratteristiche specifiche e elettronica, direi che possiamo passare a quello che ci importa davvero, ovvero la prova di tiro. E vediamo come spara questa bellezza. Andiamo! Va bene, passiamo alla prova di tiro. Io vi ammazzo, vi sturro il cu... Bene, passiamo alle conclusioni finali. Come vi ho già detto, questo è un fucile di fascia alta, e non è difficile immaginare perché dopo la carrellata di informazioni che vi ho dato su di esso. Noi però, in Italia, siamo quelli che lo propongono al prezzo più basso. Questo perché il mercato di 6mm non è solamente italiano, ma è in generale europeo, quindi vendendo in tutto il mondo facciamo quel c***o a fare. È un fucile leggero, maneggevole e comodo. Si adatta ad ogni situazione, questo grazie sia alla precisione della canna, che fa in modo che la rosata di pallini arrivi esattamente dove deve, sia per le componenti elettriche interne, in quanto il tempo di risposta del fucile è nettamente superiore alla maggior parte degli altri modelli. È un fucile che si adatta ad ogni situazione. Allo schivo, dove avete bisogno di precisione e gittata alta, avete la canna di precisione e il calcio telescopico. Mentre in un urbano, invece, dove avrete bisogno di un fucile più corto e più compatto, grazie al calcio abbattibile avrete entrambe le cose. In poche parole avete davanti un modello definitivo di M4, per tutti gli amanti del genere e non. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Stay angry! Questa è corda, si gioca...